avanti anche gli incontri, quello di ieri sera è stato molto importante, è un'impressione e quindi resta tale soggettiva, però quello che abbiamo visto ieri sera rappresenta un passo avanti o comunque una schiarita sul suo futuro a Napoli, se ce lo può confermare e se ci può raccontare quali sono le sue impressioni che sono quelle più importanti. Allora, è chiaro che fare riunioni in dei ristoranti, quelli di Napoli, dove si mangia come si mangia ieri sera, diventa difficile ritagliarsi il tempo anche per parlare perché è una bocca piena sempre di bellissime cose, però per quanto riguarda quello che è venuto fuori ieri sera è tutto molto chiaro, ma i dettagli è giusto che li espunga la società quando riterrà opportuno perché io non posso passare davanti alla società, per cui tutte le domande che ora gireranno intorno a questa situazione qui, la risposta è sempre quella, mi dispiace deludervi però, quello che è venuto fuori ieri sera ne parlerà la società quando vuole perché poi è una loro prerogativa parlarne quando vorranno, perché è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore dei modi quello che è il lavoro che devo fare, insomma ecco.